Benvenuti e benvenute a un IPG Orienta Live, il programma di orientamento virtuale dell'Università degli Studi di Perugia. In ogni puntata cercheremo di approfondire i corsi di laurea triennale a ciclo unico di uno specifico dipartimento. Lo faremo insieme all'aiuto di professori, alcuni dei quali saranno presenti con noi in studio. Oggi parleremo del Dipartimento di Fisica di Geologia e ci ha raggiunto infatti il professor Marco Cherin. Benvenuto! Ciao, buonasera! Ma ci collegheremo anche per scoprire i singoli corsi di laurea con altri professori e per esempio ci collegheremo con la professoressa Paola Comodi. Professoressa, benvenuta! Salve! Come funziona questo programma? All'interno di questa presentazione avrete modo di scoprire l'offerta didattica, formativa e come sono strutturati i corsi di geologia del Dipartimento di Fisica e Geologia. Ma non mancheranno anche appuntamenti, momenti interattivi attraverso il nostro stand poll e poi potrete al termine rivolgere anche delle domande alla professoressa. Direi quindi di iniziare e di portarvi alla scoperta di questo dipartimento con questo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La Terra ci ha offerto generosamente le sue risorse ma ci mette anche di fronte ai suoi rischi perché è un pianeta attivo che si rinnova in continuazione. I geologi hanno il privilegio di poter capire come funziona la Terra e di creare e di trovare soluzioni per i cambiamenti globali che affronteremo di qui a breve, nel prossimo futuro. Essere geologi vuol dire capire come funziona la Terra, vuol dire produrre modelli e trovare soluzioni. E quando questo avviene uno rimane stupito dal fatto che una costruzione della propria mente possa realizzarsi effettivamente nel mondo naturale e questo produce uno sgomento iniziale seguito da una grande gioia. Vi aspettiamo numerosi ai corsi di laurea di Geologia di Perugia. Buona geologia a tutti! Professor Chiarin, a questo punto non ci riesca a capire come è organizzato questo dipartimento. Benissimo, grazie Rossella. Due parole quindi sul Dipartimento di Fisica e Geologia. Un dipartimento che nasce qualche anno fa, nel 2013, dalla fusione di due dipartimenti precedenti, quello di Fisica e di Scienze della Terra. Due branche della scienza che possono sembrare apparentemente distanti ma che in realtà sono accomunate da tanti aspetti che tra l'altro mettiamo in pratica quotidianamente nelle nostre ricerche comuni e soprattutto aspetti metodologici, quindi l'utilizzo di tecniche sperimentali sia di laboratorio che di terreno, di analisi dei dati, di modelli complessi, tutte cose che ci avvicinano. Ma soprattutto quello che mi piace ricordare è che la Fisica e la Geologia sono accomunate da quello che ci piace chiamare l'approccio multiscala, cioè lavorare a scale spaziali e temporali completamente diverse. Quindi due discipline che lavorano dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, dalla frazione di secondo al milione, al miliardo di anni, dalle particelle subatomiche al pianeta Terra fino allo spazio profondo. Quindi tutte queste sono cose che ci avvicinano. A proposito di spazio, parliamo di spazio fisico, dove siamo? Parte nord del centro storico di Perugia, nell'immagine che vedete. In basso abbiamo la piazza 4 Novembre, la piazza centrale della città. Fisica e Geologia si trovano lì su, a poche centinaia di metri. Della sezione dell'area di fisica vi parlerà abbondantemente la mia collega nella prossima puntata, quindi adesso ci concentriamo sulla parte di Geologia. Due sedi distaccate ma distanti, poche centinaia di metri l'una dall'altra. La prima, la principale, il Palazzo delle Scienze, quello a destra, è praticamente davanti al rettorato dell'università, quindi siamo nella prestigiosa zona di piazza dell'università, con una vista molto bella. E a sinistra, quindi a ovest, poche centinaia di metri, la sede è distaccata di Via Faina, con alcuni uffici di colleghi, laboratori e alcune aule didattiche. A proposito di laboratori, qui vedete la lista dei principali laboratori di cui l'area Geo dispone, alcuni altamente specialistici, che già gli studenti possono cominciare a frequentare all'inizio del percorso formativo, per esempio con una tesi di laurea triennale, e che poi chiaramente diventeranno sempre più familiari nel corso del prosieguo, nella laurea magistrale, magari nel dottorato di ricerca. Mi piace porre l'attenzione soprattutto sull'ultimo, il più recente dei laboratori, lo stiamo predisponendo in questi mesi, un laboratorio interdisciplinare di modellazione 3D, in cui attraverso la raccolta di modelli 3D a tante scale diverse, dal micron con degli scanner 3D al paesaggio con dei droni, acquisiamo dati geologici di vario tipo per rispondere a domande e interpretare processi naturali di varia natura. E a proposito, infine, di laboratori, uno dei nostri orgogli è il cosiddetto Terra Lab Explorer, che è il nostro laboratorio didattico. L'abbiamo inaugurato pochi anni fa, l'abbiamo pensato, progettato e costruito pensando alla trasmissione delle conoscenze geologiche verso il pubblico, quindi verso le mura al di fuori dell'università. A frequentarlo sono soprattutto studenti di scuola, di ogni ordine grado, ma anche i nostri studenti della laurea trenale in geologia al primo e al secondo anno. Però a questo proposito vorrei lasciare la parola a uno dei nostri dottorandi, Alessandro Pisello, che ci racconta qualcosa in più sul Terra Lab, quindi prego alla regia di mandare il primo filmato. Benvenuti al Terra Lab, un ambiente dove in piccolo osserviamo i fenomeni che avvengono a scale molto maggiori nel pianeta Terra. Qui abbiamo una stampante 3D, dove riproduciamo ad esempio le forme dei fossili. Qui abbiamo un simulatore di erosione fluviale, dove possiamo osservare come appunto i fiumi possono modellare in questo caso i ciottoli. Qui abbiamo un corner per lo studio della viscosità dei magmi. Vengono utilizzati diversi liquidi aventi viscosità diverse e delle morfologie simulate per osservarne lo scorrimento. Qui, questa parte la vediamo dopo, qui abbiamo la riproduzione dei processi tettonici attraverso le scatole di sabbia. Ovvero, in piccolo, noi possiamo simulare i movimenti compressivi e distensivi che nella realtà sono quelli che determinano la forma delle rocce, come lo osserviamo ad esempio in montagna. Questi processi sono gli stessi che talvolta, in maniera violenta, percepiamo come terremoti. In questa sandbox noi vediamo in tre dimensioni quello che è possibile vedere in una normale mappa in due dimensioni. Ma la cosa molto interessante è che in maniera dinamica io posso modificare la morfologia e vedere subito come viene modificata. In questo modo posso osservare quali sono i meccanismi di erosione, ad esempio, dell'acqua. Posso anche simulare l'avvento di un'acquazione e vedere quali sono le corsie preferenziali dell'acqua che modellano la morfologia della Terra. Il TerraLab viene utilizzato principalmente per studenti delle scuole superiori per cui viene fatta divulgazione, ma viene anche utilizzato dagli studenti del primo e del secondo anno della triennale per affiancare delle esperienze alla normale didattica frontale che avviene durante il corso di laurea. Quindi vi aspetto al TerraLab. Ciao! Grazie ad Alessandro in questo video. Benvenuti al TerraLab. Spero esauriente vi ha raccontato il nostro TerraLab Explorer. Vado avanti con la presentazione del Dipartimento con le ultime slide. Scusate, sono andato troppo avanti. Vorrei tornare indietro. Con il tasto rosso. Sì. Ma non va. Eccoci. Altro fiore all'occhiello del Dipartimento le collezioni sempre a disposizione dei nostri studenti rocce, fossili, minerali, meteoriti per citarne alcune ma su questo rapporto tra teoria e pratica torniamo dopo quando parleremo del corso di laurea. E l'ultima slide quella sulle collaborazioni. Negli ultimi anni i docenti, i ricercatori del Dipartimento hanno messo in piedi una lunga serie di collaborazioni con centri di ricerca, laboratori e istituti sia in Italia che all'estero. compresi alcuni laboratori in cui si effettuano ricerche molto avanzate e a questo proposito chiederei alla regia di mandare il secondo contributo sempre da parte di un dottorando che fino a qualche giorno fa si trovava in un laboratorio internazionale in cui si fanno cose veramente speciali. Ciao ragazzi! Vi mando un saluto dal sincrotone desi ad Hamburgo. Io sono Maximiano Fastelli mi presento dottorando presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia e mi trovo qua per raccogliere dei dati per la mia tesi di dottorato. In questi giorni stiamo analizzando attraverso l'utilizzo di tecniche di raggi X a cristallo singolo campioni, quindi minerali che sono presunti sulla superficie dei corpi ghiacciati all'interno del nostro sistema solare. in particolare come potete vedere qua abbiamo la preparazione delle celle a diamanti. una presentazione meravigliosa professor Kerin direi a questo punto di entrare veramente nel vivo di questa nostra open day e di scoprire il corso di laurea in geologia. e di scoprire il corso di perugia. Grazie a tutti. Tante cose, cerchiamo di raccontarle in breve. Innanzitutto la geologia è la scienza che studia la Terra nelle sue componenti interne ed esterne. Studia i processi che la muovono, i processi geodinamici, a volte in maniera volenta, come ci accorgiamo quando c'è un terremoto, un'eruzione vulcanica. E però la Terra ci fornisce anche tante risorse con cui viviamo. Inoltre capire come funziona la Terra ci può far capire anche come l'uomo la potrebbe condizionare anche in modo irreversibile. E diciamo che vediamo alcuni aspetti della geologia. Allora, per capire appunto come funziona la Terra dobbiamo conoscerla nella sua struttura, nella sua struttura più interna fino al nucleo. In questi anni esperimenti di laboratorio ci hanno consentito di riprodurre pressioni e temperature fino dentro il nucleo. Inoltre la geodinamica viene studiata con la tettonica delle zolle, quindi come si è evoluta la Terra nel corso delle ere geologiche. I geologi chiaramente studiano le rocce, le rocce di tanti tipi, magmatiche, metamorfiche, piene di minerali che appunto ci consentono di trovare le risorse con cui viviamo. Conoscere ad esempio i meccanismi di eruzione di un vulcano può essere importante per la sorveglianza e quindi per proteggere le popolazioni limitrofe. Però studiamo chiaramente, scusate, anche le rocce sedimentarie che sono una specie di orologio geologico. All'interno ci sono fossili che ci raccontano come è evoluta gli organismi dai più semplici ai più complessi fino all'uomo. Inoltre in queste rocce ci sono serie di giacimenti importanti per i combustibili fossili, e quindi studiarle ci permettono di andare a intercettare questi giacimenti. Purtroppo diciamo in geologia siamo ben consci che ci sono tanti rischi per l'uomo e quindi catastrofi naturali, quali frane, eruzioni, terremoti eccetera, eventi imprevedibili. Però conoscendone un po' i meccanismi di azione, conoscendone i processi che li generano, possiamo creare dei modelli per mitigare questi rischi e quindi in qualche modo non proprio prevederli, però organizzare il territorio per una maggiore e consapevole gestione del costruito e del territorio. Recentemente abbiamo capito che tante malattie sono relazionate a materiali geologici, e quindi sta emergendo anche una scienza che è la medical geology, in cui cerca di relazionare come qualche patologia, molte patologie, sono relazionate a inquinamenti, polveri sottili, sostanze tossiche eccetera. La geologia si occupa anche della parte liquida della Terra, l'acqua è un bene fondamentale per la vita e chiaramente che ricopre gran parte del pianeta Terra. Quindi nella geologia studiamo come salvaguardare questo patrimonio, quindi studi di idrogeologia che ci consentono di capire quali sono i circuiti sotterrani che fanno queste acque, proprio per proteggerle e capirne anche quanto sarà la disponibilità di questo bene. E chiaramente studi di idrogeochimica servono per vedere se ci sono inquinanti e appunto salvaguardarle dal punto di vista chimico. In geologia si fanno anche della cartografia, quindi una restituzione della superficie, ma anche del sottosuolo terrestre, che consente di riportare in carte tematiche come è fatta la Terra anche nelle sue profondità. Attualmente molti si fanno rilievi di campagna, ma anche si usano dati satellitari con dei software piuttosto avanzati che permettono delle carte di grande dettaglio. Il geologo ha anche l'ambizione di proteggere il patrimonio geologico come fosse un'opera d'arte e quindi ci occupiamo anche di musei, di baritemi, minerali, fossili, ma non solo, ci occupiamo anche dei geocity, quindi dei luoghi dove ci sono dei patrimoni da proteggere dal degrado sia antropico che ambientale, perché ci raccontano pezzi unici della storia della nostra Terra. I geologi ci occupano delle risorse, quindi tutti i materiali con cui viviamo ogni giorno, quindi dai materiali più semplici, diciamo che servono per costruire i nostri edifici, strade, eccetera, a materiali molto preziosi, quelli che servono per le apparecchiature elettroniche. E quindi dobbiamo andare a ricercare queste materie prime nella nostra Terra, in modo possibilmente sostenibile, quindi materiali facili da trovare, calcare, argille, oppure materiali difficilissimi, preziosi come i platinoidi, le terre rare, il litio, ora molto ricercato per le batterie delle macchine elettriche. Quindi è un continuo, diciamo, evolversi anche nella ricerca di questi geomateriali. Inoltre, negli ultimi anni ci occupiamo anche di collaborare con gli archeologi per salvaguardare il patrimonio artistico dal degrado e anche per la conoscenza di come sono stati fatti questi materiali. La geologia ora si occupa anche un po' di planetologia e di capire non solo come è fatta la Terra, ma anche i pianeti del sistema terrestre, quindi pianeti terrestri, ma anche pianeti ghiacciati, asteroidi, meteoriti, diciamo non solo per capire come funziona la Terra e anche gli altri pianeti del sistema terrestre, ma anche, ad esempio, per contribuire a ricerche su se esistono forme di vita al di là che nella Terra, oppure ricercare materiali, appunto, che probabilmente finiranno presto sulla nostra Terra, quella che viene richiamata ora la ricerca mineraria spaziale. Diciamo che concludo dicendo che la geologia, oggi come oggi, è una materia molto importante anche per le sfide dei cambiamenti globali che ci troveremo ad affrontare. Proprio conoscendo il passato possiamo contribuire a capire come potrebbe evolvere la Terra e quindi cercare di proteggerla in anticipo, prima che diventino certi problemi irreversibili. Sappiamo trovare energie alternative, rinnovabili, sostenibili, la geotermia, le biomasse o comunque guidare quella che viene chiamata la transizione energetica. Possiamo capire come mettere in atto delle azioni per ridurre i cosiddetti gas serra. Possiamo, appunto, fare delle azioni anche per ridurre le materie prime, cercare di riciclare le materie seconde per farle ridiventare materie prime e quindi non impoverire sempre di più la nostra Terra, che è anche unica, e proteggerla per le generazioni future. Ecco, rilascio la linea al mio collega, spero di aver dato una panoramica di quello di cui ci occupiamo. Chiaramente vi aspetto poi per le domande. È stata chiarissima, professoressa. Giustamente ci ha fatto notare che la professoressa ci saluta adesso virtualmente, ma ovviamente la trovate nella chat, che trovate ovviamente nella diretta, e lì la professoressa vi aspetterà per chiarire ulteriori dubbi e perplessità. Ma comunque la sua spiegazione, professoressa, è stata chiarissima. Direi però di passare a questo punto al corso di Laura. Come è organizzato, professor Chirin? Grazie mille. Ringrazio anche io Paola Comodi per la presentazione. Passo quindi rapidamente all'ultima parte della presentazione, raccontando un po' quelli che sono innanzitutto gli obiettivi formativi e poi la struttura del corso. I primi che vedete nella slide sono estremamente generali e comuni sostanzialmente a tutti i corsi di laurea di tipo scientifico. Conoscenze specifiche che vogliamo trasmettere invece nel nostro corso, quello di geologie, più o meno li ha già descritti Paola Comodi nelle slide precedenti. Capire la Terra, capire le interazioni all'interno della Terra, capire come funziona la Terra, come si evolve, come si trasforma, quindi i processi geologici, e poi individuare qual è il ruolo del geologo in questo pianeta e soprattutto nella società. Come lo facciamo? Ecco, il percorso formativo della triennale, quello che vedete adesso proiettato, non entro nel dettaglio dei singoli insegnamenti per i vari anni. Scusate, puntualizzo che si tratta di un corso di laurea di accesso libero. Quindi non abbiamo test d'ingresso. Dicevo, vorrei porre l'attenzione soprattutto su un aspetto, accanto a insegnamenti generali che un studente potrebbe trovare anche in altri corsi di laurea scientifica, fisica, matematica, chimica, ecco, corsi di questo tipo, vorrei sottolineare che dal primo istante in cui lo studente di geologia si siede in aula, primo semestre del primo anno, cominciano già i corsi caratterizzanti. Quindi, per esempio, geografia fisica, ma anche mineralogia e paleontologia, che sono proprio gli insegnamenti della professoressa Comodi e del sottoscritto, si collocano già nel primo anno. Lo studente al terzo anno può anche in parte personalizzare il proprio percorso con la scelta di un paio di insegnamenti tra quelli che consigliamo e che vedete qui, ma soprattutto io vorrei porre l'attenzione su questo aspetto che un po' ci caratterizza, la interconnessione tra teorie e pratica. Sin dal primo momento, gli studenti di geologia possono e hanno l'opportunità di associare alla parte teorica una parte pratica. Abbiamo visto, grazie ad Alessandro Pisello prima, il TerraLab Explorer. Già dal primo anno i nostri studenti hanno il primo approccio con le attività sperimentali e questo si intensifica nel secondo e nel terzo anno, in cui alle attività laboratoriali associamo tante attività di campagna. Questa è un po' la nostra peculiarità. Escursioni, campi di studio, alcuni insegnamenti si svolgono esclusivamente all'aperto e rendono questo corso di laurea unico, diciamo. Infine, alla fine del percorso formativo, gli studenti hanno nel piano di studio un tirocinio formativo obbligatorio da svolgere fuori dall'università, musei, enti pubblici, aziende, studi di geologi, per un primo approccio con il mondo del lavoro. Ma su questo aspetto, teoria e pratica, io vorrei chiedere alla regia di inviare di trasmettere il contributo arrivato dai nostri studenti. Prego. Ben trovati a tutti voi dal Geotg, il telegiornale a tema geologico che parla di geologia, intervistando geologi. Un saluto da Claudio Ficarra. I Ivan Dilazaro. Lei come passaresti il martello? Passiamo il martello al tecnico che, come potete vedere, ci terrà compagnia durante il nostro servizio. Ma bando alle ciance, inviamo adesso in onda il primo servizio con la nostra Tiziana, in diretta da Monte e Qualcosa. Non è stato fatto un ritrovamento importante di Scaglia Rossa. Tiziana, mi senti? Sì, sì, Claudio, ti sento. Siamo in diretta da Monte e Qualcosa appena si è fatto un magnifico ritrovamento di Scaglia Rossa. Ci avviciniamo ai geologi per poterla studiare meglio. Cosa ci vuol dire di questo stupendo affieramento? Siamo su un affieramento di Scaglia Rossa del Cretacee Superiore che, come puoi vedere, è un colore che va dal rosso mattone a dei colori più cari come il bianco e gli strati, che sono abbastanza sottili, sono calcarei e marnoso calcarei. Lei invece cosa sta facendo? Ah, sì, io mi sto occupando delle giociture, ovvero misurare l'orientazione degli strati. Come possiamo ben vedere, poi gli strati sono parecchi inclinati e quindi con la bussola andiamo a leggere i tre parametri, ovvero inclinazione, immersione e direzione. Da Monte e Qualcosa è tutto? Passo a rinno al studio. Siete in onda? Pere, banane e lamponi e ananas, era la lista della spesa. Ma andiamo avanti con il nostro TG, Subasio, monte o vulcano? A sfatare il mito la nostra inviata, Laura Felicioni. Laura, a te! Sì, grazie per la linea. Ci troviamo in Umbria, alle nostre spalle il monte Subasio. I locali credono che sia un vulcano. In particolare pensano che la sua cima depressa sia dovuta al collasso di una camera magmatica. Ma non è così. È dovuta a una forma di carzismo. In particolare i cosiddetti mortari sono delle doline. Il risultato della dissoluzione da parte dell'acqua di rocce calcare. Buonasera, che cosa sta facendo? Mi sono persa. Come si è persa? Ma lei lo sa che cos'è il monte Subasio? Un vulcano. No, mi dispiace, si sta sbagliando signorina. È il risultato di una forma carsica. Se volete sapere questo e altri segreti, iscrivetevi alla nostra facoltà di Geologia. L'idea è lo studio. Iscrivetevi al nostro corso di Geologia. Così Laura chiude il servizio dal Subasio. Ed è proprio di questo corso lo studente che intervisteremo adesso in una videochiamata. Tommaso, ci sei? Sì, buonasera lo studio. Come mai hai scelto Geologia, Tommaso? Sicuramente non è una scelta casuale. Mi è sempre piaciuta la morfologia del territorio. Adesso che ne ho l'opportunità la sto studiando con passione. E l'attività più bella? Io faccio il secondo anno e per quanto riguarda il primo anno è sicuramente il TerraLab che è un laboratorio per noi studenti dove facciamo degli esperimenti. Mentre per il secondo anno, a parer mio, sono le uscite interdecillinari dove andiamo in campagna a studiare l'ambiente e scoprire quello che un giorno sarà il nostro lavoro. Bene, grazie a Tommaso. Grazie a voi. E con questo, cari amici, è tutto. Alla prossima edizione del GeoTG. Beh, io non posso che ringraziare i Super Quarzo, questo collettivo di pazzoidi che frequenta i nostri corridoi. Vi invito tra l'altro a seguirli su Instagram perché fanno delle cose molto belle. Proseguo, ma siamo praticamente arrivati alla fine. Ambiti occupazionali. Il laureato triennale in Geologia può già accedere a un albo professionale, quindi può sostenere l'esame di Stato per l'albo dei Geologi Junior. In realtà noi ovviamente consigliamo di proseguire il percorso formativo con una magistrale. Non rileggo, diciamo, tutti i possibili ambiti occupazionali perché sostanzialmente ricalcano ciò che ha detto Paolo Comodi nella prima parte. Tutti quegli ambiti di cui ha parlato la professoressa sono possibili prospettive di lavoro per il geologo. E quindi passo al completamento della presentazione con l'offerta formativa successiva alla triennale, quella delle lauree magistrali. Ne abbiamo due a Perugia. Una internazionale in lingua inglese, la laurea magistrale in Geology for Energy Resources, che insomma di cui andiamo molto orgogliosi, abbiamo studenti provenienti da tutto il mondo. E la laurea magistrale di recente istituzione Scienze della Terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente con il curriculum Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio e l'altro curriculum anch'esso internazionale in lingua inglese, Geosciences for Environmental Sustainability. E a proposito delle offerte, diciamo, delle possibilità lavorative dopo la laurea, chiederei alla regia di mandare l'ultimo contributo filmato, un qualche saluto da laureati in geologia di qualche anno fa. Ciao, mi chiamo Luca Caricchi, mi sono laureato in geologia a Perugia nel 2003. Adesso sono professore associato di petrologia e vulcanologia all'Università di Ginevra, in Svizzera. Studiare geologia è molto importante per tante delle problematiche attuali della nostra società, come per esempio la transizione energetica, dove giochiamo un ruolo fondamentale per comprendere quali saranno le forme di energia che guideranno la nostra società nel futuro. Ma per altre problematiche di attualità, per esempio avete visto che Perseverance, la sonda della NASA è appena atterrata su Marte e sta cercando le tracce di vita. Giochiamo anche lì un ruolo fondamentale perché abbiamo utilizzato tante delle conoscenze che abbiamo sul nostro pianeta per capire per esempio dove far atterrare questa sonda e cercare con la probabilità più elevata forme di vita che speriamo hanno occupato questo pianeta nel passato. Quindi studiare geologia secondo me è una grande scelta, è una scelta di attualità, è una scelta che vi fa agire nella direzione di generare una società sostenibile e durabile. Ciao a tutti, ciao, io sono Elena Morettini, geologa, mi sono laureata a Perugia nel 1992 quando a dirigere il nostro Dipartimento di Scienze della Terra c'era il professor Giampaolo Pialli. Lo ricordo perché sono fermamente convinta che insieme alla scelta di una materia che spero che nel vostro caso sia geologia perché la geologia oggi vi apre le porte alle transizioni energetiche, alla sintesi in laboratorio di minerali, alla cattura delle emissioni, al cambio climatico, alla sostenibilità. In generale insieme a queste discipline dico a cui vi apre la porta fare geologia, sicuramente la differenza la fanno le persone. Per cui cercate i vostri modelli, cercate di avere persone di riferimento che possano aiutarvi, guidare le vostre strade e insieme a quello, scegliendo geologia, sicuramente avrete un'opportunità grandissima davanti a voi. Io sono direttore di Sustainable Business oggi in una compagnia di tecnologia che ha 19.000 impiegati in tutto il mondo, 20 uffici, per cui contattateci, speriamo di potervi essere di aiuto e scegliete geologia perché veramente è una materia illuminante. Salve, mi chiamo Stefano Pucci, mi sono laureato in scienze geologiche nel 1999 all'Università degli Studi di Perugia con una tessitilaria sulla geologia dell'area colpita dal terremoto di Colfiorito del 1997. Da ormai 20 anni sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e continuo ad occuparmi delle fenomenologie geologiche legate ai terremoti. Tra l'altro sono coordinatore nazionale del gruppo operativo Emergeo che costituisce un centro di competenza per la protezione civile proprio per quanto riguarda gli effetti geologici di superficie legati alle emergenze sismiche. Grazie a questi ultimi contributi e vi lascio questa presentazione con la slide dei contatti geo.unipg.it è il nostro sito dedicato esclusivamente all'orientamento in cui trovate tanti contenuti multimediali che possono raccontarvi ancora meglio quello che facciamo e i social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter che cerchiamo di tenere costantemente aggiornati con le nostre attività. Professor Kerin, veramente una presentazione eccezionale devo dire, veramente sono rimasta molto colpita e rapita da questa modalità molto interattiva e a proposito di interazione chissà quanto i nostri ascoltatori e le ascoltatrici avranno trattenuto di queste spiegazioni dei professori che abbiamo avuto qua in studio e in collegamento lo scopriremo tra pochissimo perché è arrivato il momento del nostro instant poll ovvero il quiz a risposta multipla che trovate nella chat ma come funziona? E qui arriviamo alla spiegazione allora per iniziare dovrete inserire il vostro nome nel campo di testo che è presente sotto al live della chat e accettare appunto i termini dopodiché ovviamente per partecipare dovrete cliccare sul pulsante vote e che apparirà sotto la chat nel momento in cui io lancerò farò partire il countdown a partire da adesso dirò ecco e da lì appunto voi inizierete a rispondere mi raccomando non scrivete le risposte nella chat perché non valgono ecco a partire da quando io lancerò la domanda inizierà il countdown avete solo 10 secondi per rispondere alla risposta alla domanda risposta multipla quindi siete pronti? se lo siete io direi a questo punto di iniziare con le domande professore prego allora domanda numero 1 il geologo si occupa di rischio sismico a sì il geologo si occupa più che altro di rischi antropici oppure b il geologo studia i terremoti e altri fenomeni naturali per prevenire e mitigare i rischi associati oppure c il geologo sa come scappare più in fretta possibile in caso di terremoto risposta d il geologo si occupa solo di catastrofe avvenute in epoche passate siete pronti? avete 10 secondi a partire da adesso professore alcune domande mi hanno fatta un po' ridere alcune risposte sì ci siamo impegnati molto sono molto simpatiche devo dire sì ma da questo punto di vista se siete stati attenti sicuramente non avrete problemi a rispondere anzi direi a questo punto di passare direttamente alla seconda domanda del nostro quiz che è la seguente il geologo si occupa anche degli altri pianeti? risposta A il geologo si occupa solo del pianeta Terra risposta B il geologo ricerca altri pianeti con l'uso di telescopi risposta C il geologo si occupa del pianeta Terra e di tutti i corpi celesti oppure D il geologo si occupa solo della Terra e di Marte siete pronti? 10 secondi a partire da adesso chissà professore quanto saranno stati attenti il professore sa comodi è stata bravissima a spiegare questa parte questa è tosta qui bisogna ragionarci un attimo allora io direi che nel frattempo mentre attendiamo che i nostri ragazzi e le ragazze all'ascolto rispondano alle nostre domande direi di passare a delle frequently asked questions sono le domande che molto spesso vengono poste quando si parla del corso di laurea in geologia e quindi professor Chiarini le chiedo subito che cosa offre un corso di geologia in più rispetto ad altri corsi scientifici che si occupano appunto del nostro pianeta tanto sicuramente l'aspetto legato all'attività di campagna è uno degli aspetti delle peculiarità principali però secondo me la cosa più bella di questo mondo sulla quale siamo tornati spesso in queste presentazioni è l'aspetto del tempo quindi la percezione che il geologo ha del tempo è qualcosa che nessun'altra scienza può dare il tempo profondo come ci piace chiamarlo quindi ragionare guardando il pianeta guardando anche lo spazio con una scala temporale diversa rispetto a quella a cui siamo abituati io faccio sempre questo esempio ai miei studenti dico passeggiate in centro a Perugia per esempio osservate magari toccate delle mura etrusche ecco in quel momento il geologo non sta soltanto ammirando un'opera d'arte o un reperto archeologico ma sta pensando al travertino che si è formato in una pozza in un laghetto in un fiume magari con acque idrotermali magari mezzo milione di anni fa è un viaggio nel tempo la geologia è un viaggio nel tempo un'altra domanda che molto spesso viene rivolta quando si parla del corso di laurea in geologia è con quali altri professionisti invece il geologo deve collaborare? qui la risposta cambia in base al tipo di geologo cioè alla specializzazione se pensiamo al geologo classico cioè il geologo libro professionista dobbiamo sempre ricordare che qualsiasi attività umana che preveda la modificazione del territorio deve vedere protagonista il geologo quindi costruire qualcosa ristrutturare qualcosa mettere in sicurezza una certa zona eccetera il geologo deve intervenire e così facendo collabora prevalentemente ad esempio con architetti e ingegneri però se pensiamo al geologo che fa altro magari ricerca beh qui le possibilità sono infinite lavoriamo con i fisici nel nostro dipartimento ma lavoriamo con i chimici io lavoro tantissimo con biologi ecologi archeologi insomma il bello di questo mestiere è avere sempre a che fare con altri ricercatori un'ultima domanda molto a cui le prego di rispondere molto sinteticamente c'è la possibilità per gli studenti di fare anche esperienze all'estero? assolutamente sì c'è invitiamo caldamente i nostri studenti a farlo prevalentemente con i programmi Erasmus che conosceranno tutti il nostro dipartimento attive moltissime convenzioni con università europee quindi che i nostri studenti partano è una cosa bella da fare allora nel frattempo dalla regia ci hanno inviato i risultati dell'instant poll e direi a questo punto professore commentarli con lei allora andiamo a vedere sulla prima domanda che era il geologo si occupa di rischio sismico professore c'è stato un unplane veramente il 100% ha risposto correttamente la risposta giusta lo ricordiamo era il geologo studia i terremoti e gli altri fenomeni naturali per prevenire e mitigare i rischi associati complimenti ragazzi ragazze beh complimenti insomma benché sia importante saper scappare in caso di un terremoto direi che che non è proprio la nostra principale professione venendo invece alla seconda domanda del quiz la domanda era il geologo si occupa anche di altri pianeti anche qui i risultati sono stati molto buoni professore perché abbiamo l'89% di risposte corrette e la risposta corretta era la C il geologo si occupa del pianeta Terra e di tutti i corpi celesti bene un ottimo risultato direi assolutamente di sì noi siamo arrivati oramai in dirittura di arrivo quasi alla chiusura di questo nostro appuntamento dedicato al dipartimento di fisica e geologia ma ovviamente nel caso aveste ancora qualche dubbio o perplessità su come riuscire a immatricolarsi ebbene abbiamo preparato un video un tutorial che vi può essere utile proprio per capire come iscriversi all'università degli studi di Perugia e poi ovviamente nel caso nello specifico al dipartimento di fisica e geologia dal mese di agosto sarà possibile immatricolarsi online collegandosi al SOL servizio di segreteria online dell'università degli studi di Perugia prima di procedere all'immatricolazione è necessario essere in possesso di una fototessera in formato digitale una scansione fronte retro del documento di identità utilizzato durante la registrazione una scansione del codice fiscale o della tessera sanitaria sarà possibile immatricolarsi accedendo al SOL d'Ateneo dalla pagina e procedendo alla registrazione e all'autenticazione dal menu segreteria selezionare immatricolazione scegliere il corso di laurea e procedere con la compilazione dei campi richiesti al termine della procedura sarà possibile procedere direttamente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie per usufruire di riduzioni sulla contribuzione è necessario inserire nella tua area riservata SOL entro i termini previsti per le immatricolazioni l'ISEE per il diritto allo studio universitario rilasciato da un CAF dal commercialista oppure dall'INPS per assistenza sarà possibile avvalersi di un apposito servizio di ticketing borse di studio le borse di studio sono erogate dall'ADISU agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria per ottenere la borsa bisogna essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dall'apposito bando di concorso che viene emanato e pubblicato sul sito dell'ADISU nel mese di luglio di ogni anno per partecipare al bando non è necessario essere già immatricolati ad un corso di studio ma sarà necessario procedere all'immatricolazione entro i termini indicati nel bando e siamo veramente arrivati alla fine di questa puntata di un IPG Oriental Live dedicata al Dipartimento di Fisica e Geologia ringrazio ovviamente il professor Kerin la professoressa Comodi che è collegata con noi e ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile realizzare questo programma salve grazie professoressa che vi aspetta tra l'altro ovviamente nella chat per chiarire dubbi e perplessità ancora una volta grazie a voi che siete rimasti con noi fino a questo momento trovate maggiori informazioni direttamente sul sito di unipg.it grazie ancora grazie grazie a tutti